Giovanni Falcone e Paolo Borsellino continuano a vegliare su Palermo. La storica foto che ritrae insieme i due giudici è stata riprodotta sulla facciata dell'istituto nautico Gioeni Trabia di Palermo. I volti sorridenti dei due magistrati erano stati immortalati dal fotografo Toni Gentile poche settimane prima delle due stragi che li hanno uccisi cambiando la storia del paese. Il fotografo racconta l'emozione di questo momento. L'emozione è quasi direttamente proporzionale alle dimensioni, aumenta più si guarda e più ti sembra grande questa immagine e quindi l'emozione è tantissima. Io avrei preferito non farla, chiaramente questa foto, avrei preferito che non fosse esposta qui quindi avrei preferito che oggi Falcone e Borsellino stanno lavorando al Palazzo di Giustizia per continuare la loro lotta contro la mafia. La storia non è andata così e quindi a questo punto questa immagine deve servire per continuare a dare speranza e coraggio ai tantissimi palermitani che hanno voglia di combatterla veramente questa mafia. A realizzare il murales con spray e vernice aiutati da una gru sono stati due street artist siciliani Rosk e Loste. È un simbolo per tutti noi. Riprodurla così gigante veramente fa ricordare a tutti ogni giorno che anche nel piccolo possiamo riuscire a cambiare qualcosa. Il murales è stato inaugurato dal sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e alla cerimonia era presente anche Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci. A volere l'opera è stata l'associazione nazionale magistrati della sezione distrettuale di Palermo.